67. Possessive pronouns, too. Pronomi possessivi, due. The glasses. Gli occhiali. He has forgotten his glasses. Lui ha dimenticato i suoi occhiali. Where has he left his glasses? Ma dove sono i suoi occhiali? Ma dove sono i suoi occhiali? The clock. L'orologio. L'orologio. His clock isn't working. Il suo orologio è rotto. Il suo orologio è rotto. L'orologio è appeso alla parete. L'orologio è appeso alla parete. The passport. Il passaporto. Il passaporto. He has lost his passport. Lui ha perso il suo passaporto. Lui ha perso il suo passaporto. Where is his passport, then? Ma dov'è il suo passaporto? Ma dov'è il suo passaporto? The children cannot find their parents. I bambini non riescono a trovare i loro genitori. I bambini non riescono a trovare i loro genitori. Here come their parents. Ma eccoli che vengono. Ma eccoli che vengono. You. Your. Lei. Il suo. Lei. Il suo. How was your trip, Mr. Miller? Com'è stato il suo viaggio, signor Müller? Com'è stato il suo viaggio, signor Müller? Where is your wife, Mr. Müller? Dov'è sua moglie, signor Müller? Dov'è sua moglie, signor Müller? You. Your. Lei. Il suo. Lei. Il suo. Come è stato il suo viaggio, signora Müller? How was your trip, Mrs. Smith? Come è stato il suo viaggio, signora Müller? Come è stato il suo viaggio, signora Müller? Where is your husband, Mrs. Smith? Dov'è suo marito, signora Müller? Grazie.